Siamo ad Aciglia, in piazza Capel Venere. Il parcheggio situato al piano interrato dell'edificio di proprietà di Roma Capitale è stato chiuso creando notevoli disagi a commercianti e residenti in una zona già carica di problemi. L'area di soste di proprietà di Roma Capitale che ha affidato la gestione attraverso il regolare bando ad una cooperativa che, da quanto dicono residenti e commercianti, da circa due mesi ha chiuso i cancelli senza un apparente motivo e soprattutto senza alcuna comunicazione. Come vedete questa era la rampa d'accesso al parcheggio ma ormai i residenti sanno che è inutilizzato e quindi parcheggiano davanti bloccando l'ingresso. È stato chiuso così senza avvisarci e nessuno sa niente, cioè non c'è un referente con il quale parlare e chiedere spiegazioni. Quindi è un disagio per l'utenza e va su una zona che è completamente dimenticata e abbandonata. Il problema del parcheggio non c'era anche perché c'era un abbonamento mensile il cui costo non era così elevato. Il parcheggio chiudeva alle ore 19 per cui noi avevamo tutto il tempo di andare lì la mattina con il nostro abbonamento mensile pagato. Ora non ricordo la cifra quanto fosse, forse intorno ai 30-40 euro al mese, però ti dava una certa tranquillità. Allora rispettavi i tuoi orari e non dovevi stare mezz'ora a girare per trovare un buco dove mettere la macchina e ora il disagio, ecco, qui si amplifica tutto, solo i disagi. I cittadini lasciano le macchine durante i negozi tutto il giorno, noi li scarichiamo, ecco là c'è un furgone là, noi torniamo e dobbiamo chiudere il parcheggio e poi li scariciamo. Se noi scarichiamo a mezza strada, con l'inizio andiamo sotto a una macchina e non lo trovo una cosa giusta, no? Quando arrivano le 7 non c'è più parcheggio, non c'è possibilità di parcheggiare, è una situazione di tassosa, tutti qui si mettono prima via, addirittura parcheggiano qui su una proprietà comunale, che c'è carico e scarico, vanno a prendere la metro, si entrano la sera alle 7, alle 8, con i loro comodi, qui è un disastro. Ormai qui si parcheggia, anche per fare una cosa velocissima in un negozio, si parcheggia solo in doppia fila? Penso che sia una cosa del tutto romana, no? Il posto non c'è. E quanto questo, hanno creato proprio un caos che non finisce mai per l'Avodi, addosso ha scritto che lì devi passare una carrozzina, devo passare mezz'ora strada perché ti metti la macchina là sopra. Io questo pure non... Poi non se avete un vigile che gira per dire, se passi qui tutte le mattine, sai i milioni delle multe che fai? Abbiamo cercato di capirne di più e abbiamo girato la segnalazione all'assessore ai lavori pubblici del decimo municipio Claudio Bollini, che ci ha assicurato che verificherà quanto prima la situazione.